che cosa chiede a babbo natale che si portasse via tutti i politici e lei che cosa chiede a babbo natale la salute tanta tanta salute a tutti cosa chiede a babbo natale un miracolo va a roma ciao e tu che cosa chiede a babbo natale 50 euro come tutti gli anni io te ne chiedo 30 annamo poi stai a grisi Sì!